60 progetti che parlano di comunità, 60 luoghi fisici pronti ad accogliere servizi per l'informazione, l'accompagnamento, il supporto all'attivazione, spazi in cui informarsi, apprendere e scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari. Sono stati presentati i primi 60 nodi della rete Giovani Puglia, pensati con e per le giovani e i giovani pugliesi che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità. È una strategia che punta a interconnettere ogni singola parte del nostro territorio, dal nord foggiano al sud salento, provando a costruire non solo una comunità unica, ma una strategia che metta i giovani al centro della visione pugliese. A guidare questo processo saranno i giovani professionisti animatori di comunità, in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e esperienze. La linea d'azione strategica della partecipazione è un asse portante, per cui noi adesso siamo in fase di trasformazione da agenzia nazionale per i giovani ad agenzia italiana per la gioventù e nelle nostre priorità c'è proprio il percorso di partecipazione, di mobilità europea e di acquisizione delle competenze da parte dei giovani. Tra le attività previste, un percorso sperimentale di servizio civile regionale, per il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica. È una rete materiale e immateriale, composta per il momento da 60 comuni e tra poco da altri 36, quindi quasi 100 nodi di questa rete che servono per fondare servizi di comunità.